In un quarto d'ora dare la definizione della fisiopatologia della sepsi e dello shock settico è un'operazione incredibile. Le mie slide sono a disposizione di tutti insieme al call to action che è il volume che come gruppo sepsi abbiamo prodotto con ARS e con Regione Toscana e lo potete prendere dal tecnico, insieme anche all'ultima versione, la quinta, delle guidelines, delle linee guida della Surviving Sepsis Campaign. La definizione della sepsi del 2016 a tutt'oggi valida è che è una disfunzione degli organi che mette in pericolo la vita, quindi la sepsi diventa un'emergenza sanitaria, diventa una patologia tempodipendente, questo diventare nella testa di tutti, causata da una disregolata risposta dell'ospite all'infezione. Quindi l'infezione ci deve essere sempre, altrimenti è una risposta infiammatoria sistemica che può essere rappresentata anche da altri problemi. Quindi l'infezione deve essere sospettata sempre o diagnosticata. Lo shock settico diventa un sottogruppo della sepsi con profonde anormalità circolatorie cellulari e metaboliche associate a un maggior rischio di mortalità. Vedete che per la prima volta sepsi-3 fa fuori la definizione di SIRS, di Systemic Inflammatory Response Syndrome, perché essa è valida per tutte le infezioni. Non è caratteristica di un'infezione that's gas bad, che va male, che si complica, mentre esalta la risposta immunitaria innata e adattativa. Però manca in questa definizione qualche cosa che noi intensivisti vediamo sempre, ma lo vediamo anche nell'infezione. L'eterogeneità, cioè i diversi fenotipi di presentazione della stessa patologia e la stessa patologia della sindrome. Quindi disregolato e risposta dell'ospite sono concettualizzati come solo risposta di maladattamento. Questo è molto importante. Vedete che la storia è lunga, è la storia della mia vita. Noi abbiamo cominciato a capire la sepsi quando nella RDS, tornata di moda adesso con la pandemia, ma che è stato il nostro problema, a un certo punto negli anni Ottanta abbiamo visto che si moriva di infezione con la RDS. Lì è nata la vita della sepsi, che si è standardizzata soltanto nel 91 con Roger Bone, che fa la prima definizione standard. Lì parte la vita della sepsi con la prima definizione del 1992, come SIRS, infezione più SIRS e più insufficienza d'organo. A quei tempi si diceva sepsi, sepsi grave e shock settico. E poi nel 2016 arriviamo all'attuale definizione. Vedete che per qui Mervin Singer e Shankarari, che sono stati i principali autori della definizione sepsi, sì, Shankarari, che abbiamo avuto modo di averlo qui a Firenze anche, vedete che fanno un algoritmo dove vediamo un'infezione sospettata o diagnosticata, la complicazione del gas bed con il quick sofa, che si può fare semplicemente in qualsiasi posto, anche qui a Villa Donatello, e poi tutti i dottori devono avere nella tasca del proprio camice il sofa in modo tale da poter diagnosticare la sepsi, secondo la definizione del 2016. La storia è lunga e l'abbiamo vista, nasce dai papiri egiziani, nasce con il medico Ippocrate, continua nell'Ottocento con il famoso avvelenamento del sangue e poi comincia a essere standardizzata soltanto nel 1992. Quale sarà il futuro della prossima definizione? Beh, quello di affrontare eterogeneità e patofisiologia, cioè meccanismi biologici che possano fare in modo di uscire fuori dal concetto indefinito di sindrome per entrare dentro specifiche malattie che hanno dei contenuti patobiologici identificabili in modo che la teranostica possa avere efficacia rispetto invece alla comune terapia data sul fenotipo. Quindi il futuro sarà verso gli endotipi di sepsi oppure subfenotipi più endotipi di sepsi. Questo sarà il futuro e sarà il futuro delle prossime definizioni. Che cos'è la patofisiologia? Beh, la risposta dell'ospite all'infezione. It's the host response to infection. It's dell'ospite. L'ospite viene attaccato dal patogeno. Noi viviamo con i patogeni, è stato attenti. Noi e loro, we are not alone. Noi non siamo soli. Abbiamo un chilo di batteri dentro di noi circa, chi dice più, chi dice meno, sono commensali ed essi stessi attraverso il microbiota fanno in modo che i patobionti, i patogeni siano, come dire, al loro posto. Li abbiamo nell'intestino, li abbiamo nella cute, li abbiamo nei polmoni, li abbiamo da tutte le parti. Se loro si muovono perché noi diventiamo diversi, allora, come potete vedere, il patogeno attraverso patogeni associated molecular pattern che sono dei motivi molecolari specifici molto antichi e molto stabili dei patogeni, i microrganismi, quando diciamo microrganismi patogeni intendiamo il microbiota, ma anche il viroma, anche i funghi, tutto quanto, tutti i microrganismi che vengono però sentiti da noi. Vengono sentiti dai, vedete, pattern receptor recognition, ma anche oltre che i pumps, oltre che i patogeni associated, quando abbiamo danno, e questo noi intensivisti lo vediamo perché noi curiamo anche i traumi, altre storie, anche forme di danno delle cellule RNA, altre formule, l'I-Mobility Box 1, altre forme che si chiamano Damage Associated Microrganismi, attivano il sistema di difesa. Questo sistema può dare una risposta bilanciata e allora noi ritorniamo all'omeostasi, alla nostra salute. Ricordiamoci che nella malattia noi non dobbiamo studiare soltanto la malattia, dobbiamo studiare anche la malattia nel suo ritorno all'omeostasi, cioè alla guarigione. Per esempio, Donnella Ayers studia questo problema come tolleranza dell'individuo all'infezione. Dall'altra parte abbiamo invece la risposta sbilanciata. La risposta sbilanciata è sempre binaria, è sempre insieme, contemporanea, ma è fatta dalla parte pro-infiammatoria e dalla parte anti-infiammatoria, di immunosoppressione. Vedete, se prevale la parte pro-infiammatoria, noi abbiamo una morte precoce, sono le morti precoci da quella che si chiama la cytokine storm, ormai diventata famosa con Covid-19, e dall'altro invece abbiamo una mortalità più tardiva, la quale è determinata soprattutto dalle nosocomie all'infection, dal fatto che io sono immunodepesso e quindi posso morire per infezioni secondarie. Vedete che l'infezione di per sé vuole generare l'ascesso, mette in moto dei meccanismi biologici che cercano di localizzare, compartimentalizzare i batteri attraverso situazioni particolari. Vedete che sono la vasodilatazione e l'attivazione endoteliale. Il recruitment dei leucociti e la loro attivazione e poi la coagulazione, la formazione delle NET, che sono i neutrophil extracellular traps, che è la storia straordinaria del polimorfo nucleato, che è il vero Marines guidato dai macrofagi, che sono i sergenti, che vanno a cercare di difendere, ma che fanno danno collaterale e che esercitano danno attraverso i dams e quindi l'infiammazione, come dire, come in un feedback, in un feed forward in questo caso, torna a aumentare. Questa localizzazione, quando c'è, vedete, quando è locale, è una risposta efficace. Ma quando diventa sistemica, porta all'insufficienza d'organo, perché porta all'ipossiemia, all'ipossia dei tessuti e al danno mitocondriale, e quindi via via porta alla multiple organ dysfunction. Ecco qui c'è una temporalità. Ecco, questa è un'altra storia che deve stare nel cervello. Quando l'infezione è gas bad, allora c'è tempo, il tempo. Noi non possiamo perdere tempo, perché questi eventi biologici accadono nel tempo. E qui vedete, appunto, nel dominio del tempo noi vediamo che la sepsi la possiamo rappresentare come una corsa numerica e geografica tra crescita batterica e difese dell'ospite nel dominio del tempo. Avevamo detto prima il microbioma. Qui abbiamo chirurghi, qui abbiamo chirurghi. Il microbioma, purtroppo, viene alterato dalle nostre terapie. in primis viene alterato dagli antibiotici. Noi curiamo la malattia, pensiamo di curare, soprattutto quando siamo empirici, oppure quando sbagliamo. Pensiamo di curare, ma anche quando facciamo bene, pensiamo di curare la malattia, ma alteriamo il microbioma. Alverdi, un chirurgo di Chicago, ha studiato questa storia e ha fatto vedere che i commensali vengono meno e i patogeni. E allora c'è un passaggio da microbioma patobioma. Vedete? Soprattutto questo avviene. Ma non avviene solo per gli antibiotici. Avviene, per esempio, per i gastroprotettori. Avviene per l'uso delle catecolamine. Avviene per l'uso di molti farmaci, per esempio sedativi. Quindi quando noi lavoriamo dentro la terapia intensiva, noi soffriamo, noi dobbiamo soffrire. Non possiamo essere inerti pensando che quello che stiamo facendo fa solo bene. E quindi la sepsi può essere anche... Di solito abbiamo imparato col Covid, ma noi lo sapevamo molto bene con le altre cose. Si muore con la sepsi o di sepsi. Questa è una bella riflessione. Vedete che cos'è la MOF? Inutile che mi soffermo su questa. È l'insufficienza multipla di tutti gli organi. Da qui il meccanismo patofisiologico che sta in ogni organo, prendiamone uno a caso, per esempio, la cardiomiopatia è stata di moda anche col Covid, è importante. E qui si esprime il fenotipo. Allora noi sappiamo il fenotipo e guardiamo l'evento patofisiologico. Questo si chiama multiple organ dysfunction. Nel tempo, perché quella dysfunction può tornare indietro o può andare avanti alla failure. La risposta immunitaria è sbilanciata proprio perché l'immunopatologia non è determinata soltanto dal processo attivato dai patogeni, ma anche dal danno che noi abbiamo generato, il quale attraverso i DAMS porta benzina all'infiammazione. E questa è la risposta septica. Vedete che i PAMS là sono i motivi molecolari, sono i lipopolisaccaridi, l'acido teicoico. Qui i microbiologi la sanno, devono parlare, sono clinici, non possono stare nel loro silos più. Stanno con noi perché noi gli potremmo spiegare i DAMS che abbiamo generato noi. perché PAMS e DAMS attivano una risposta pro-infiammatoria che vedete è l'attivazione dell'eucociti, ma anche l'attivazione del complemento, l'attivazione della coagulazione e poi il danno. Come ho fatto io ora, vedete. i DAMS invece generano una forma di immunoparalisi, di immunodepressione e di immunoparalisi attraverso l'attivazione di apoptosi dei linfociti TB delle cellule a espressione dendridica e l'espansione delle tregs e delle suppressor, delle mieloide suppressor cells e la danneggiata fagocitosi, ma anche si altera la regolazione neuroendocrina e anche si altera poi l'inibizione della trascrizione pro-infiammatoria con aumento delle citochine. Chi vince qui? Non lo sappiamo, dobbiamo starci sopra. Non possiamo più pensare di fare questa medicina così come ci viene proposta senza integrare le discipline. non possiamo più vivere la nostra vita di infettivologi e di intensivisti senza il microbiologo clinico, senza la medicina di laboratorio, senza il genetista, senza tutte queste storie, fino domani all'intelligenza artificiale. Inutile, qui le potete vedere sulle slide è rappresentato in modo più chiaro quali sono i processi dell'eccessiva infiammazione che riguarda i leucociti, l'endotelio, le piastrine e invece la monosoppressione che riguarda i CD4 e CD8. Come facciamo oggi ad avere una medicina di laboratorio caro dottor X e taro dottor Y senza citoflorimetria di flusso? Come posso parlare con il professor Rossolini se gli dico genericamente immunodepesso? Vale niente! Cito florimetria di flusso, lo devono avere tutti i laboratori e quindi farese deve sapere come è messo il suo paziente. qui vedete lo stato proinfiammatorio con l'attivazione delle leucociti dal complemento della coagulazione fino al danno necrotico delle cellule che di nuovo riattiva l'infiammazione cytokine storm e dall'altra parte invece l'immunosoppressione con la regolazione neuroendocrina l'alterata funzione delle cellule immunitarie fino all'inebizione dei geni proinfiammatori che vince se non abbiamo il laboratorio lo possiamo guardare col fenotipo abbiamo naso abbiamo esperienza sì ma e qui vedete che oggi ancora di più in verde vedete in verde questa slide va vista nei quadratini verdi abbiamo delle terapie per la risposta dell'ospite abbiamo delle terapie che riguardano lo stato proinfiammatorio quante discussioni abbiamo sentito sull'ananchira l'ago Megacchio si chiama e via discorrente non ci ha detto niente di nuovo covid-19 chiaro? a quelli che hanno studiato quelli che hanno studiato finalmente gli ha aperto il cervello poi poi possiamo vedere il problema del complemento inibire il C5 attivato o la coagulazione io ci ho speso una vita presso all'antitrombina terza inseguito da Tommassini e da altri burocrati della Toscana l'altri sono sulla risposta antinfiammatoria tra cui alcuni farmaci usati con molto successo sui tumori perché in oncologia siamo molto più avanti ma noi siamo con gli stessi meccanismi e vedete che mentre le mortalità precedentemente erano su due picchi una precoce e una tardiva adesso questa prima precoce è diminuita perché siamo diventati più bravi più rapidi eh early goal one hour one hour e via poi però è salito il picco è salito il picco della long term death facciamo un sacco di sforzi consumiamo un sacco di soldi e il paziente muore dopo un anno e qui vedete appunto queste traiettorie devono stare nel cervello di chi studia la patofisiologia della sepsi abbiamo la fase precoce vedete addirittura una fase presepsi perché è lì che potremmo avere la disbiosi cari chirurghi è lì che potremmo avere la disbiosi è lì che dobbiamo aiutare il professor rossolini poi abbiamo una morte precoce per cytokine storm oppure un'immunodepressione feroce allora più tardivamente avremo infezioni nosocomiali oggi più direttamente sono responsabili multi drug resistant addirittura riattivazioni virali importantissime questo lo sa bene farese di queste storie la tolleranza all'endotossina studiata bene da Cavaillon perché poi non è solo sistemico noi abbiamo una visione molto sistemica ma organo per organo c'è una diversificazione della risposta e una mortalità più tardiva e qui vedete appunto quella tardiva che ormai si chiama PIX PIX che è praticamente dato dalla disfunzione d'organo soprattutto rene e cuore da una persistente infiammazione ma accompagnata da immunosoppressione e poi anche da catabolismo la C vuol dire catabolismo e questi sono i pazienti che noi ce ne liberiamo li mandiamo da qualche parte e li muoiono quindi anche il concetto della morte lo dobbiamo completamente rivedere su questo ecco perché anche dal profilo dei dati dobbiamo essere come dire orgogliosi se abbiamo un sistema di dati non non me ne frega niente non scrivo niente non è importante e vedete quanto oggi si sta studiando su le sequele a lungo termine della sepsi qui è rappresentato in modo definitivo il rapporto tra noi e loro ma chi siamo noi siamo gente che ha diversità genetica diversità di sesso diversità di età diversità di malattie sottostanti diversità di microbioma diversità di gruppo etnico diversità di stili di vita e questo è e chi sono i patogeni e come faccio a ragionare con rossolini dobbiamo avere la stessa visione dobbiamo bere la stessa acqua lo stesso vino qui vedete che abbiamo i meccanismi della coagulazione non li sto a dire ma la coagulazione è fondamentale l'abbiamo visto anche nell'ultimo numero di Nature che fa vedere in tutte le terapie intensive quelli che morivano più di covid 19 erano quelli che facevano la DIC Pavoni qui lo sa molto bene perché l'ha studiato specificatamente nel covid ma noi lo sapevamo dalla sepsi e questo anche sapevamo quanto è importante l'ossigenazione tessutale e l'alterazione mitocondriale tant'è vero che l'uomo quando io portavo i morti di sepsi all'anatomia patologica dove mi sono innamorato della mia attuale moglie va bene vedevamo che a parte il polmone che aveva dei problemi determinati dalla RDS gli altri organi erano completamente buoni sani e perché? perché il mitocondrio si ferma in uno stato adattativo e cerca di diminuire la funzione piuttosto che la struttura e qui vedete che oggi i meccanismi di immunoparalisi sono molto studiati io la metto questa diapositiva perché voglio che la medicina di laboratorio la pianti di farci ragionare sulla zotemia e sulla glicemia che si fa con un po' in tocchea e ci dia la citoflorimetria di flusso piuttosto che ci fa comprendere molti di questi problemi che sono importanti perché noi siamo vecchi oggi i giovani spesso fanno la cytokine storm e poi guariscono anche se proprio non li porta via la cytokine storm ma i vecchi no i vecchi diventano immunoparalizzati e ci sono terapie oggi sperimentali ma ci sono che sono state usate per la prima volta sui tumori ma che oggi vengono utilizzati anche per questi gravi stati di sepsi soltanto per ricordarvi il problema anche il sistema neuroendocrino cerca di frenare l'infiammazione attraverso la stimolazione simpatica che però in periferia diventa colinergica e quindi la stimolazione del vago oggi l'elettroagopuntura del vago può essere un riflesso antinfiammatorio così come interpretare meglio i processi legati all'alterazione degli assi non c'è tempo di entrare ma per esempio quando andiamo a capire se quando è importante fare il cortisone o no e in che dosaggio farlo e come farlo Annaneo ci ha fatto vedere che dovevamo fare piccole dosi di cortisone in continua perché lui supponeva e poi è stato provato che ci fosse un'insufficienza surrenalica ma quando misuri il cortisolo lo vedi alto la medicina di precisione rapidamente va dalla conclusione che si riferisce alle strategie diagnostiche e di terapia che prendono in considerazione le caratteristiche individuali del paziente questo è un messaggio anche agli infettivologi non si può più fare la infettivologia guardando solo agli antibiotici cercate di fare la tara le mie parole non è che non sono importanti gli antibiotici e ancora però nella sua infanzia la medicina di precisione oggi viene fatta attraverso l'arricchimento prognostico ricordate queste parole e l'arricchimento predittivo l'arricchimento prognostico fa riferimento alla selezione di pazienti con un'alta probabilità di un rilevante esito di malattia la mortalità per esempio l'arricchimento predittivo fa riferimento invece alla selezione di pazienti che sono più probabili rispondere favorevolmente a una specifica terapia la teranostica basata su un meccanismo biologico specifico e allora vedete che noi tentiamo di subgruppare perché 30 anni di trials non hanno portato a niente perché la nostra terapia è di supporto con antibiotici precoci fluidi precoci e supporto d'organo e non c'è altro perché questa popolazione qui era eterogenea l'arricchimento prognostico divide pazienti con bassa mortalità dove uno standard care può bastare da pazienti con alto rischio di mortalità dove io posso andare all'arricchimento predittivo e generare uno specifico trattamento per i meccanismi biologici per meccanismo biologico qui in questa slide è solo per mandare il messaggio dell'integrazione delle discipline noi è vero che stiamo all'ingresso in ospedale ma già all'ingresso in ospedale senza microbiologia non ci si può stare più dico bene Reggiano senza medicina di laboratorio vero che collabora non ci si può stare più poi abbiamo bisogno di altre figure che però si integrano sanno non stanno chiuse in bunker che sono i genetisti i farmacogenetici quelli che si occupano della metagenomica del microbioma e poi alla fine tutto ritorna alla clinica dove io do farmaci per quel paziente con quella specifica dose in quello specifico tempo e quindi abbiamo bisogno anche siccome i dati sono tanti e sono difficili vero dottoressa Silvia i dati sono tanti abbiamo bisogno di strumenti abbiamo bisogno di competenze e di strumenti fino ad arrivare alla comprensione maggiore della patogenesi immunitaria della sepsi le questioni in sospese le abbiamo viste dobbiamo dare una nuova definizione quindi la nuova definizione è guardare la risposta dell'ospite questo ci chiede i nuovi approfondimenti patofisiologici guardare la genetica cambiare l'organizzazione dei nostri ospedali usare nuovi strumenti di analisi che sono il machine learning che è un sottocampo dell'intelligenza artificiale l'implementazione della medicina di precisione per i pazienti con sepsi in cui la terapia immunitaria è guidata da biomarker della risposta dell'ospite che riflettono cambiamenti patofisiologici bersagliabili che guidano la patologia in maniera dipendente dal singolo individuo e dal tempo io dico oltre che dal tempo nel senso di precocità dalla temporalità degli eventi unitari finito qui vedete il dottor Tulli che vaccina e parla e interagisce con il generale Figliolo lì vedete come potete scaricare ma ce l'ha anche il tecnico il call to action un anno di lavoro con un gruppo straordinario e le linee guida della surviving sepsis campaign ormai alla quinta edizione che per chi fa l'intensivista devono essere imparate a memoria grazie grazie a tutti grazie a tutti